Marina di Ragusa sempre più lanciato verso la Serie D. Il big match della giornata vai rosso-blu, autore di una prestazione di grande qualità tecnica e agonistica. Decisivo un gol di arena nel settimo minuto. È stata una gara combattuta, quella contro il Biancavilla, con due spulse e cinque ammoniti. Un giocatore, Iozzia, uscito dal campo in barella e portato in ospedale per un infortunio in uno scontro di gioco. Il Marina ha vinto perché ha cercato il gioco veloce innescando i suoi attaccanti, poi quando è rimasto in dieci per una buona mezz'ora per l'espulsione di Vindigni, ha tenuto duro, ha ristretto gli spazi e ha presidiato soprattutto le fasce esterne. Nulla da fare per gli etnei che, quando sono riusciti a trovare il varco giusto, si sono imbattuti in un di Carlo, attento e pronto alla ribattuta. Ora il Marina di Ragusa è ad un passo dal traguardo. Quattro punti di vantaggio, a tre giornate dal termine, sono un patrimonio importante da gestire. Perde fuori casa l'altra iblea in eccellenza. Il Santa Croce non riesce a tornare alla vittoria, uscendo ancora sconfitto a Rosolini per 2-1. Il gol al quinto minuto di recupero consente a Rosolini di battere l'undici di Lucenti. Che non meritava la sconfitta per il carattere mostrato e la superiorità tecnica messa in campo per oltre un'ora di gioco, sebbene l'informazione rimaneggiata per le assenze degli squalificati di Rose, Ravalli e gli infortunati Cavone, Yatte e Ascia. Quindi quarta sconfitta consecutiva del Santa Croce che forse dà l'addio definitivo al sogno playoff, sebbene abbia disputato una stagione da incorniciare. In promozione la sdragusa cale il poker a Floridia e si prende tre punti importanti per il finale di campionato. Restano infatti tre sole gare di cui due in casa ed una a cicli contro avversari ormai senza obiettivi. La trasferta sul campo di Solarino poteva risultare ricca di insidie, ma gli azzurri l'hanno affrontata col giusto piglia e concentrazione. I tanti tifosi a seguito festeggiano sugli spalti e vedono vicino ormai il traguardo della promozione in eccellenza. Disco rosso per il Modica al buongiorno, il Caltagirone segna due gol per tempo e non dà scampo ai rosso-blu, in giornata decisamente negativa. Partita ha cominciato male con due gol al passivo nei primi 20 minuti e proseguita peggio nel secondo tempo. Pozzallo vince nettamente sul Megara per 4-0, mentre è pari al Barone tra Frigentino e Scicli. Le due squadre si fanno abbastare un pari, che fa bene alla classifica e mette entrambi in salvo. In prima categoria il Chiamonte pareggia con il Pro Ragusa per 1-1 e, grazie alla contemporanea sconfitta del Comiso a Noto per 2-1, conserva la testa della classifica. Tre i punti di differenza quando mancano cinque giornate alla fine della fase regolare. Conservare la prima posizione significa conquistare l'accesso diretto alla serie superiore.